Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà un netto cambiamento del tempo, aree più fresche in arrivo dall'Europa centro-settentrionale raggiunge l'Italia generando un centro di bassa pressione sul nostro paese e portando acquazzoni temporali diffusi. Andiamo a vedere la previsione della nuvolosità, ecco guardate quanti ammassi nuvolosi interessano l'Italia all'inizio della settimana con sì ancora delle schiarite ma ripeto alta probabilità anche di acquazzoni temporali li vediamo queste piogge, queste acquazzoni in arrivo da quest'altra immagine in azzurro i fenomeni più intensi in viola i temporali anche di forte intensità, insomma come vedete molte zone dell'Italia saranno interessate questo lunedì da queste piogge che saranno piuttosto intense come vi anticipavo, quindi in definitiva giornata molto variabile e instabile acquazzoni temporali diffusi sulle regioni settentrionali più intensi tra la Lombardia e il Triveneto temporali anche sulle regioni tirreniche e alla fine del giorno arriveranno anche al sud poi vi anticipo martedì migliora al nord ma al centro-sud ancora acquazzoni temporali diffusi tra l'altro a questo punto anche temperature in netta diminuzione con questo è tutto ma per sapere cosa capiterà da voi vista la situazione scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo